Ciao, ciao, ben ritrovati alle chicche informative anche questa mattina. Oggi sto meglio, io non ce l'ho proprio voglia. Allora, parliamo un po' di divorzio, non quello dalla moglie o dal marito, ma quello dalla mandante. Allora, il primo divorzio, se tu magari sono anni che stai nello stesso, nella stessa mandante, mi sembra che è corretto a un certo punto, ci sono le condizioni, un po' come quando si è cresciuti insieme, no? Se ti sposi a vent'anni, poi è capace che dopo altri venti, a quaranta, voi siete diversi, no? È cambiato qualcosa nella relazione. C'è gente che rimane sposata tutta la vita con lo stesso partner e c'è gente invece, sono consulenti che dopo un tot di anni decidono che non vogliono più stare sposati con la mandante che hanno scelto magari appunto 5, 10, 20 anni prima. Perché? Perché sono cambiate le condizioni, perché c'è un manager che dirà un peccoglioni, perché la mandante non è più la stessa, perché a volte cambiano i vertici, succede spesso, cambiano i vertici, ci sono delle fusioni e quella mandante lì non è più la stessa che tu hai scelto, no? Quella sposa non è più la stessa che tu hai scelto, ok? Eh, perché? Perché le persone sono diverse e quindi tu non hai più voglia di stare sposata con questa mandante. Allora, ci sta, tutto è lecito, perfetto, quando l'amore non c'è più bisogna andarsene. Bene, detto questo, la scelta della mandante, della nuova fidanzata, nuova sposa o nuovo sposo che decidi di scegliere è una scelta molto importante, perché non la puoi sbagliare. Se la sbagli, dopo che sei uscito magari da un matrimonio di 10, 15, 20 anni con la mandante precedente e non è che puoi stare lì poi un mese, due mesi, tre mesi e scoprire, come ultimamente mi sta succedendo con alcuni di voi, scoprire che quella mandante non va bene per te, anche se il tuo coach ti aveva avvisato che c'erano determinate cose che non potevano essere adatte a te. Però, a volte, alcuni di voi sono degli zucconi e ci devono andare a sbattere la testa. Se poi mi è già successo, ultimamente un paio di volte, che dei consulenti, pur avendogli spiegato vita, morte e miracoli di quella mandante, e quindi avergli detto guarda che non è tutto oro quello che luccica, cioè c'è questo, 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 questo che non va nella direzione dei tuoi obiettivi, c'è questo, questo, questo che non è quello che tu pensi. Cioè, a me non mi viene in tasca niente, ragazzi, credetemi, io non faccio reclutamento, quindi non mi viene in tasca un beato zero di niente, ok? Se vi dico che quella mandante funziona così, 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 è perché lo so, è perché facendo coaching da tanti anni a tutti i consulenti di tutte le mandanti, quindi li ho visti tutti, vi conosco tutti, conosco tutte le mandanti, le conosco dal di dentro perché ho fatto formazione, oppure ho fatto coaching a molti consulenti che stanno all'interno di quella mandante. Quindi le so le cose, ok? Se vi dico non va fatto, cioè non va bene, perché è troppo indietro, perché non ha la tecnologia, perché tu hai dei clienti che sono estremamente bancarizzati, quindi ti serve, per mille motivi, per mille motivi, ok? Perché conosco il manager di quella mandante, di quella zona, e quindi ti dico guarda che una testa di cazzo non è il caso, cioè voglio dire poi ti troverei male, oppure conosco il manager e dico guarda che invece quello lì è uno giusto, cioè fai bene, è ottimo, scegli quella mandante perché ha questo, 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 questo motivo per essere valida e ha anche un manager con i controcoglioni, cioè non mi viene in tasca niente, credetemi, ve lo posso giurare sulla tomba dei miei genitori, io non ho mai preso un euro, un euro che fosse un euro, né dai manager né dai mandanti, se vi dico le cose che vi dico è perché le so. Bene, ultimamente mi sta capitando, mi è appena capitato, due persone che avevo sconsigliato in maniera molto, molto energica di non prendere quella decisione, cercando di orientarli verso un'altra direzione, non mi hanno voluto ascoltare, sono andati in questa mandante, uno è già uscito perché c'è stato tipo un mese e mezzo, non ce l'ha fatta, e l'altro sta per uscire adesso, brevissimo, perché non ce l'ha fatta, perché ha detto qui non è niente di quello che mi hanno raccontato, eh già, guarda un po', te l'avevo poi detto che era così, un conto è quello che ti raccontano, un conto è quello che hai, ok? Quindi, fatemi una chiamata, consultatemi, ma poi ascoltatemi, perché ci sono tante variabili da mettere sul piatto, una è quella economica, l'altra è quella anche di servizio, di cosa mi metto a disposizione, cioè non c'è solo quella economica, c'è anche quella di servizio, quella mandante ha la tecnologia per, se non ce l'ha, tu rimani fuori dal mercato, perché oggi il mercato va in una certa direzione, ok? Vabbè, insomma, finché non ci sbattete il muso, non siete contenti. Comunque, io qua sto, quando volete, c'è anche l'offerta Black Friday, i posti stanno scendendo e i giorni stanno scendendo, oggi sono otto giorni, i posti sono ancora nove, perché fino a ieri ne ho comprato uno, vediamo se oggi facciamo l'altro, uno al giorno toglie il medico di torno, va bene? Ok, vi aspetto, io tra un po' faccio il corso Video Strategy, alle 10, per tutti quelli che fanno coaching, è aperto solo, ormai i miei corsi sono aperti quasi tutti, solo in esclusiva a chi fa coaching, perché, insomma, se vuoi aderire, vuoi partecipare, il percorso è completo, prendere due o tre clienti che vengono a fare i miei corsi così, tanto per, francamente, poi gli manca tutta la struttura, quindi fanno anche un po' fatica. Va bene, ok ragazzi, ciao, a domani, domani e venerdì, quindi ci sono ancora, e imboccarli un po' per tutto. Se state pensando di cambiare, prima di farlo, alzate il telefono. Ok, ciao, ciao a tutti.